Penso che in questi anni del maestro sia stato detto quasi tutto. Il maestro era una persona dalle molteplici qualità, con una gran gioia di vivere e che aveva colto l'essenza della vita. Per lui qualsiasi situazione dalla più triste alla più felice facevano parte di un unico ciclo che è quello del saper vivere. Io ricordo il maestro per alcune qualità in particolare che le raccoglierei in tre aggettivi che iniziano per la lettera S. Il maestro era un uomo severo, simpatico e sereno. Grazie. 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 Grazie.